Benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi direzione Milano a San Siro a vedere la partita di Milano. Sono con Giada. Abbiamo già trovato dei fratelli che avevano una maglia di Milano. Outfit of the day. Cosa ne pensi della situazione? Sono emozionata, vuol dire che non sono mai andata a Milano. Non sei mai andata a vedere Milano in Verona. Non sono mai andata a Milano, in uno stadio e sonnando nel Milano, tipo Napoli. No Milano, Napoli. Siamo pronte, si vola. Sono tradito in Napoli. Dillo a tuo padre. Scusa papà. Tipo sempre Napoli. Però siamo degli ultra. Siamo degli ultra. Siamo degli ultra. Ritorno a seguire fine al mondo, all'ultimo secondo. La mia prima partita, la mia invece no. Sono già venuta un'altra volta, però abbiamo perso. Ma oggi vinceremo. Abbiamo preso il panino con il salame e il formaggio. E il cotoletto. Secondo panino. Oddio, stavo cadendo. Questa volta con un po' pomeroni e dalziccia. Un po' sporca, mi sa. No, no. Dove? Siamo, quella roba è fighissima. La dobbiamo fare? Si. Let's go! Siamo per entrare nel Milan Stadium. Qui a San Siro. No, quello non è il Milan. Eh, no, lo so, lo so. Papi, entriamo, entriamo! 12. 12. Sono impegnata, sono a Milano. L'occhio è bagnata, eh, ragazzi. È bagnata l'acqua. È bagnata? L'hai bagnata. Per terra abbiamo trovato questo. Forza Napoli! Aspetta, sento la loro urlo. Non l'avete fatto? No, no. Ho paura che mi picchiano. No, che ti devi picchiare. No! Forza Napoli! Stiamo entrando qua adesso, andiamo! Andiamo! Bello! Ha iniziato a piovere. Ho rubato il canale a Salmina. Guarda! Piove tantissimo, raga! Ma tantissimo! Giada! Come credi che finirà? Bene! Adesso andremo a chiedere alle persone cosa ne pensano, cioè come secondo loro finirà questa partita. Andiamo! Ciao! Scusa, possiamo farti una domanda? Ma dimmi! Secondo te come finirà questa partita? Allora, come ho detto a tutti gli altri, dopo il derby bisogna riscattarsi. Io spero in un 3-0, al massimo posso dire un 4-1 per il Milan. 4-1! Grazie! Ciao! Possiamo chiedervi come secondo voi finirà questa partita? Come speriamo che finisca la partita. 2-0 per il Milan. 2-0. Come finirà secondo voi questa partita? 4-1, credo. È una bufera! Guarda, è tutto bianco! Come finirà secondo te la partita? Secondo me è 2-0 per il Milan. Ha una brutta aspettativa! 2-1 Milan. 2-1, grazie! Come finirà la partita? Vinceremo, credo. Vinciamo ovviamente! Vinciamo! Forza Milan! Per me è 2-1 per noi. Per noi è 2-1 per noi. Va bene. Sparato a casa. Grazie. Grazie. Molto bene ragazzi! Molto bene! Solo in inglese. Scusate. Ehm... Come va la partita? Ok. Credo che Milan va venire. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 3-1. Milan. Sono entrati! Partita? Oddio. Non lo so. Indecisa. Chiedi a lei che più è. 2-0 Milan. 2-0. 2-1 per il Milan. Milan 3, Verona 9. Non lo so. 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 oddio io non ci capisco niente guarda mi dispiace come finisce la partita mia figlia come finisce la partita secondo te e dai vinciamo vinciamo sì sì guarda non lo so guarda non ho proprio idea dopo le ultime due può succedere esatto quindi siamo qua a controllare va bene grazie è la domanda spero con una vittoria però con un campo così la vedo dura come finisce la partita come dice papà 2 a 1 2 a 1 2 a 1 non lo so spero che vince il milan 3 a 1 2 a 0 per il milan 2 a 1 milan 2 a 0 per milan 3 a 0 milan 3 a 0 3 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 3 a 0 3 a 0 2 a 0 io credo che questa partita io credo che questa partita 2 a 1 per il milan io credo che questa partita 2 a 1 per il milan ma ma che bella se gioca lo secondo me è 2 a 0 2 a 0 speriamo in un 3 a 1 che cazzo figlio non lo saprei 2 a 0 milan 2 a 0 milan da dove sei? da Germania 3 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 abbiamo incontrato un sacco di persone dal mondo Germania, Berlin cioè, vabbè, Berlin è in Germania Brasile Brasile, Czechoslov Costa Rica Costa Rica tutti 1 a 0 sono un po' stanca quindi adesso non chiederò più niente a nessuno 1 a 1 2 a 0 3 a 0 3 a 0 Shiftar anche io bravo sempre bene ragazzi abbiamo trovato anche compaesani compaesani Abbiamo vinto 1 a 0 Allora Giada cosa ne pensi? Abbiamo vinto Abbiamo fatto tutti Vabbè Devo farlo anch'io ragazzi Devo correre anch'io Il cameraman è ancora vivo Ok faccio la vlogger Bella a tutti ragazzi Grazie ragazzi Per aver visto il video Per aver partecipato E nulla Speriamo che vi sia piaciuto Ciao Bravissima pure la Closy